Salve a tutti, io sono Martino Varano, sono il responsabile emergenze dell'Associazione di Protezione Civile, NERS, Nucleo Emergenze, Reventino Savuto. Vi diamo il benvenuto nella nostra sala radio dove stiamo parlando, questo è il cuore principale dove noi prendiamo le decisioni sulle emergenze, dopo il collega, il responsabile della sala radio vi spiegherà come funziona. Io intanto vi voglio spiegare il perché è stato deciso di far nascere un'associazione di protezione civile su questo territorio. Ci siamo accorti, dopo anni di protezione civile quasi 20, di protezione civile dei gruppi comunali, che i gruppi comunali hanno delle limitazioni negli interventi. Allora, questa idea è nata da tre persone, dal Presidente dell'Associazione Tonino Vescio, da me, da Simeone Cardamone, che è il delegato al Com10 di Soveria Mannelli, del delegato del Sindaco. Abbiamo deciso di creare questa associazione e far confluire gli operatori dei vari gruppi comunali in un'associazione intercomunale da dove possiamo rispondere meglio alle emergenze, più prontamente e soprattutto tenere sotto controllo il territorio. Siamo iscritti all'albo regionale della protezione civile, siamo in continuo contatto da questa sala con la sala operativa regionale, da dove arrivano le chiamate prima di qualsiasi intervento. E oggi, per far capire qual è il nuovo ruolo della protezione civile in Italia, ma specialmente e soprattutto in Calabria, specialmente sui territori comunali, perché voi pensate che un qualsiasi intervento dei vigili del fuoco, il più vicino da dove vi stiamo parlando, è il comando di staccato della mezzia terme, che ha un tempo di intervento su questi luoghi dai 40 ai 50 minuti. Quindi l'importanza di avere una protezione civile intercomunale si intuisce ipso facto. Tant'è che oggi abbiamo voluto organizzare questo convegno in cui sarà presente il responsabile dell'unità operativa del volontariato regionale della protezione civile, il dottor Folino Gallo, per fare capire qual è il ruolo che deve avere la protezione civile e che deve avere le associazioni di volontariato come la nostra su questo territorio. Sono realtà che nelle altre regioni esistono da tempo, noi le stiamo creando adesso con notevoli difficoltà, anche economiche, ma ce la stiamo facendo e approfitto di questa intervista per ringraziare tutti i miei operatori che ogni giorno con sacrificio lavorano su questo territorio. E vi presento qui accanto a me il responsabile della sala radio, colui che coordina le emergenze da questa sala e vi spiegherà proprio nel concreto come funzioniamo. Grazie. Grazie. Grazie.